Salutare Dragilor! Ogni volta che si parla di Gianni Schicchi, di Tabarro o anche Suor Angelica, è sempre un evento. Sono opere non solo straordinariamente capaci di entrare nel cuore delle persone, ma sono anche molto difficili da realizzarsi. Quindi per me è sempre un evento. In questa situazione, cioè quella del 9 di ottobre, faremo due opere, delle tre. E cioè il Tabarro e il Gianni Schicchi. Puccini aveva pensato di realizzare un'opera in un atto unico, era già nei suoi progetti da diversi anni, già dei primi del Novecento. Poi quando c'è stata questa occasione dove il Metropolitan di New York gli commissiona proprio la composizione di un trittico, quindi di tre opere, e insieme alla fanciulla del West, è stata la migliore occasione di progettare bene queste sue idee. Il Tabarro è un'opera dove avviene un omicidio, dove c'è una scena di gelosia. Siamo sulle rive della Senna, un gruppo di scaricatori di porto parlano delle loro vicende, di quello che sta succedendo intorno a loro. Mentre il Gianni Schicchi, che forse è l'opera, che delle tre ha riscosso più successo, è forse l'unica opera buffa insieme alla rondine di Puccini. Noi l'abbiamo ambientata con il regista Kosh Marosch intorno al 1915-1916, quando originariamente l'opera del 1200. Puccini, anche lui, ha sempre tenuto molto a quest'opera. Pensate che andava sempre in giro con un piccolo libricino della Divina Commedia di Dante Alighieri, dove appunto ha preso spunto il Gianni Schicchi, grazie al librettista Duccio Forzano. Gianni Schicchi che però, in questo caso, finisce all'inferno perché ne ha combinate veramente delle grosse. E allora io vi invito tutti a vedere come va a finire questa storia. Vi aspetto qui all'Opera Nazionale di Cluj. Grazie a tutti.